Le foto con lo smartphone non vengono bene, la fotocamera dello smartphone ha una qualità nettamente inferiore rispetto a quella delle fotocamere professionali, con il telefonino non si può lavorare. Avrete sicuramente sentito frasi come queste su internet e non. Ebbene oggi andiamo a sfatare 5 miti riguardo alla fotocamera del nostro smartphone e seguite il video fino alla fine perché sono sicuro che avrete delle belle sorprese. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, per chi fosse nuovo vi ricordo che questo è un canale dove tratto di fotografia, videomaking, grafica e design, per cui se questi argomenti vi interessano io vi invito a iscrivervi adesso sulla fiducia, così mi aiutate un pochino a crescere, mi aiutate con l'algoritmo. Andiamo a incominciare e cominciamo subito con il primo mito che andiamo a sfatare riguardo alla fotocamera del vostro cellulare. Con lo smartphone è impossibile scattare a livello professionale. Ora ovviamente ci sono dei contesti in cui si è avvantaggiati nell'utilizzo di una fotocamera professionale. Però dobbiamo anche constatare che Chiara Ferragni, faccio un esempio, prendo una che non ha combinato niente in vita sua, prendo proprio un esempio a caso. Chiara Ferragni ha una serie di fotografie sui suoi profili che sono scattate con delle fotocamere professionali, ma molte, moltissime, sono scattate con il suo telefono cellulare. Quindi questo che cosa significa? Significa che il mondo del lavoro è cambiato. Questo sicuramente. Una volta vent'anni fa era impensabile scattare con il telefono, bisognava per forza rivolgersi a qualcuno che lo sapesse fare. Ma oggi, e soprattutto per come è cambiato il mondo del lavoro, io trovo che sia quasi impensabile il contrario. Cioè in un ambito di lavoro, perché Chiara Ferragni quando si posta un selfie non sta facendo locchetta, sta lavorando. Quindi in un ambito di lavoro come quello di oggi, che è così per molte persone, non solo per Chiara Ferragni, è assolutamente impensabile fare il contrario. Cioè, Chiara Ferragni ovviamente ha dei fotografi che si occupano di lei a tempo pieno, però è impensabile che questi fotografi stiano appiccicati a lei veramente 24 ore al giorno. E ci sono dei momenti, molti per la verità, che lei è l'unica in grado di catturare. E come lo fa ovviamente? Non si porta dietro uno zaino con 400 milioni di euro di strumentazione? No, va in giro. Con un iPhone, chiaramente ultimo modello, quindi avrà sempre delle foto molto belle e superiori rispetto a quelle di tutti gli altri, perché ha sempre l'ultimo modello per prima. Però lavora con quello. Lei realizza degli scatti che finiscono sul suo account e che sono assolutamente inquadrati in un contesto professionale. Io non credo che nessuno dei fan di Chiara Ferragni, ma neanche dei detrattori, non credo che nessuno vada sull'account di Chiara Ferragni a dire, sì però questa l'ha fatta col telefono, eh ma qui si vede che non è fatta, qui non ha la profondità di campo dell'F1.2, cioè ecco, non me la vedo questa scena. Non riesco a immaginarmi una scena in cui ci sia qualcuno che fa le pulci a Chiara Ferragni perché ha fatto le foto con lo smartphone. Proprio non riesco a immaginarmela questa scena. Questa secondo me è una dimostrazione di come ormai lo smartphone sia entrato nel flusso di lavoro professionale. Questo che cosa significa? Che la reflex è spacciata? Che la mirrorless è spacciata? Secondo me no. Vabbè sì, purtroppo la reflex è spacciata. Questo lo dobbiamo ammettere. Per quanto riguarda la mirrorless e il fotografo in generale o il videomaker, secondo me non siamo spacciati, nel senso che c'è ancora bisogno di qualcuno che sappia fare queste cose con perizia laddove questa perizia è richiesta, che lo sappia fare in un momento in cui magari il cliente non lo vuole o non lo può fare. Faccio un esempio, quando Chiara Ferragni si sposa ovviamente c'è una troupe di operatori perché lei in quel momento sta facendo un'altra cosa e quindi non ha tempo voglia di filmarsi tutto il tempo con il suo telefono. Per cui ci sono altre persone che lo fanno per lei. Quindi ci sarà sempre bisogno degli operatori, ci saranno sempre dei contesti dove comunque un operatore ha un'esperienza superiore rispetto a quella di un utente che se le fa col telefono. Quindi gli operatori non sono spacciati, però lo smartphone è entrato nel flusso di lavoro, volenti o nolenti è entrato, è pieno di attività che realizzano i contenuti social con lo smartphone. Una volta si stampava, adesso la stampa è presso che morta, c'è ancora ma si usa molto meno e comunque ha dei costi tali per cui i piccoli player non la usano, i piccoli player usano i social e quindi tutti questi utilizzano lo smartphone per fare le pubblicità per le proprie attività. È normale, è una cosa di cui noi non ci rendiamo neanche conto, ma moltissime cose che vediamo sui social sono proprio realizzate con lo smartphone. Quindi lo smartphone è entrato nel flusso di lavoro, possiamo essere tutti d'accordo che se abbiamo una Red o una Harry i filmati vengono meglio, se abbiamo una Hasselblad le foto vengono meglio, certo, però non possiamo negare che lo smartphone sia entrato nel flusso di lavoro di tutti i giorni per milioni e milioni di persone. E non solo, questo flusso di lavoro non è stato intaccato più di tanto da questa cosa, nel senso che non si vede la differenza. Ormai siamo a un livello tale per cui non si vede più così tanto la differenza, quindi con lo smartphone si può lavorare. Non è detto che sia la scelta migliore, non è detto che venga tutto bene, ma si può lavorare. Falso mito numero due, con lo smartphone non si può scattare in studio perché con le luci da flash non c'è l'adattatore, non si possono sincronizzare. Falso! Infatti se andiamo a vedere sull'App Store esiste per esempio l'app di Godox Photo, è un'app che funziona sia per iOS che per Android, però dipende dalla versione che avete. Se avete le ultime versioni non dovrebbero esserci problemi, se siete un po' arretrati potrebbero esserci problemi di compatibilità. Se avete dei flash Godox che hanno la possibilità di essere connessi in questa maniera, possiamo sincronizzare tutti i nostri flash al nostro telefono cellulare e possiamo far scattare la fotografia al nostro cellulare sincronizzata con i flash Godox che quindi scattano per il nostro telefono. Questo è un game changer ragazzi, perché nel momento in cui entravo in sala pose, mi ricordo ancora che all'inizio era difficile stare in sala posa, era un ambiente ostile, perché io andavo con la mia fotocamera, la mia fotocamera era una medio livello, arrivavo in studio e mi dicevano, eh no guarda noi qui abbiamo il cavetto solo per le professionali, abbiamo l'attacco solo per le professionali, per la tua non c'è l'attacco. E dico, io che faccio adesso? Eh, troviamo un adattatore, un accrocchio, mi ricordo una roba che stava su col nastro isolante, una roba vergognosa. Mi mettevo su questa slitta sulla hot shoe della fotocamera con questo filo che era attaccato col nastro isolante, perché sennò si staccava, una roba schifosa, e quindi riuscivo a fare questo bypass e a scattare con questa. In un contesto del genere vi rendete conto che era impensabile scattare col cellulare, poi dopo hanno cominciato ad arrivare i trigger senza fili, e lì è stata una Pasqua, cioè trigger senza fili, per esempio l'X Pro di Godox si infila sulla hot shoe e io senza fili, senza niente, controllo tutti i miei flash dalla pulsantiera e scatto senza più toccare le luci. Fantastico paradiso! Il mondo si è evoluto, per cui siamo andati sempre verso una situazione dove i fili vengono eliminati. A questo punto siamo in grado di sincronizzare i nostri flash con uno smartphone, e questa è una cosa che ti cambia veramente la vita, perché se prima, per andare in studio, per avere quella qualità, qualità di luce, dovevi per forza avere una fotocamera, non dico professionale, però una fotocamera con la hot shoe, quindi non una compattina del cavolo, dovevi quantomeno avere una entry level, e comunque dovevi avere magari gli attacchi se c'era soltanto il filo all'inizio. Poi sono arrivati i sistemi wireless, ma non tutte le sale posa ce le avevano, quindi o te lo compravi tu, o comunque dovevi chiedere prima se il modello era compatibile, quindi era difficile, era veramente complicato. Adesso il fatto di poter collegare il nostro smartphone alle luci da studio è un vantaggio incredibile, perché significa che io non sono più vincolato all'acquisto di strumentazione dedicata, io posso andare con il mio telefono, con la mia app, posto ovviamente che sia compatibile con le luci che troviamo in studio, quindi dobbiamo chiedere che luci hanno, se sono compatibili con l'app, oppure ce le compriamo noi, le compriamo compatibili con l'app, controlliamo prima, però in questo modo noi possiamo avere la qualità luce dello studio sul nostro telefono. Ora, gran parte della mancanza di qualità che abbiamo sui nostri smartphone deriva dal fatto che scattiamo in condizioni in vere conde, scattiamo con una luce schifosa, spesso scattiamo al buio, contro luce, non sappiamo neanche noi bene cosa fare, se abbiamo una situazione di luci da studio abbinate al nostro telefono ecco che improvvisamente la luce che arriva sul nostro telefono è migliore, quindi anche lo scatto sarà migliore. Poi sicuramente dobbiamo cominciare a imparare a ragionare in manuale, perché non possiamo più stare lì a dire il telefono scatta in automatico e in più c'è il flash, perché così le foto verrebbero bruciate, quindi noi dobbiamo dire al telefono di prevedere che ci sarà il flash e quindi dobbiamo dargli delle impostazioni di scatto precise, dobbiamo scordarci che sia il telefono a fare tutto quanto in automatico, dobbiamo pensare noi. Questo è il piccolo sforzo che ci viene richiesto, però noi possiamo gestire le luci da studio, quindi le luci fighe, quelle con cui si fanno le foto patinate che troviamo su Io Donna, possiamo gestirle anche tramite smartphone e questa è veramente una figata. Terzo mito da spatare, le foto fatte con lo smartphone hanno una qualità inferiore, posto che dipende con cosa facciamo il raffronto, perché è evidente che se prendiamo una fotocamera ammiraglia da 8.000 euro e la paragoniamo al sensore piccolo così di uno smartphone, sì è vero, la qualità di combinazione sensore più grande e lente da 2.000 euro che abbiamo su una strumentazione professionale chiaramente non compete con quella di un cellulare con un sensore piccolo così a un lentino di plastica grande come l'unghia di un mignolo, è evidente. Però dobbiamo anche fare un ragionamento, ovvero io spendo 8.000 euro di corpo macchina e 4.000 euro di lente e mi ritrovo con una fotocamera grossa così che non riesco a portare quasi da nessuna parte che però fa delle foto stellari e spettacolari bellissime. Dipende per cosa la uso, perché se sono un professionista e sto andando a fotografare una partita di calcio ho fatto la scelta giusta. Se volevo andare al mare, ai caraibi con la mia famiglia, volevo avere una rubina in tasca piccola, quella crocchio gigante non è la cosa migliore e quindi difficilmente farò delle buone foto con quella camera. Inoltre bisogna prevedere la destinazione finale, perché se io sto fotografando Ibrahimo dice che sta tirando un rigore, ci sta che ho una qualità alta perché potrebbe finire su un giornale, potrebbe finire stampata in prima pagina sulla gazzetta. Se invece io sto facendo le foto delle vacanze, probabilmente finiranno solamente su Instagram e quindi saranno piccole così su cellulare, piccole così nel feed, al massimo grandi così sul monitor e quindi quella qualità forse non mi serviva neanche. Il concetto di qualità è relativo al tipo di osservatore, perché ci sono osservatori, mia nonna non la capisce la differenza di qualità tra una foto e l'altra, o ci sono dei pixel grossi così da una parte o se no per lei sono tutte uguali. E la maggior parte degli utenti sono così. È vero che siamo tutti un po' più smaliziati, quindi se una foto fa schifo perché è fatta in qualità di scarsissima illuminazione con un sacco di rumore ce ne accorgiamo. Però la differenza su Instagram, se la vediamo grossa così è un conto, ma su Instagram la differenza tra una foto fatta bene e una fatta male è molto lasca e anche gli utenti più smaliziati fanno fatica a distinguere la differenza tra queste due immagini, a meno che una delle due non faccia veramente veramente schifo. In secondo luogo la qualità sugli smartphone è comunque aumentata. Se guardiamo per esempio gli ultimi iPhone, l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14 Pro hanno una qualità che è veramente pazzesca, è davvero notevole, comincia ad avvicinarsi a quella di modelli professionali. Non è uguale ovviamente perché non puoi avere la stessa cosa di 12.000 euro di strumentazione professionale dentro di un cellulare da 1000 euro, non puoi, è impossibile. Però con tutta la tecnologia che c'è dentro nello smartphone ci si sta avvicinando moltissimo e vantaggio incredibile, lo smartphone oltre ad essere piccolo, portatile, adatto alla mano di tutti, non alla tasca ma alla mano di tutti, è un qualcosa che ti aiuta, ti viene incontro perché lo smartphone valuta quelle che sono le migliorie tecnologiche delle fotocamere e le implementa all'interno di un processore che se ne occupa lui. Quindi fondamentalmente laddove con una videocamera o fotocamera professionale dovrei fare tutto a mano, lo smartphone dice io sono nella mano di un utente non professionista per cui devo fare tutto io in automatico, per cui intelligenza artificiale, machine learning, lettura della scena, riconoscimento di cose, persone, veicoli. Il nostro smartphone riconosce la scena e fa gli aggiustamenti da solo, per cui sostanzialmente io con un iPhone di ultima generazione riesco a fare delle cose che con una fotocamera o videocamera professionale farei molta fatica a realizzare, con lo smartphone vengono da sole, perché c'è tutta una tecnologia dietro che fa sì che vengano normalmente, cioè io non ho più bisogno di fare fatica per realizzare quelle cose, non ho più bisogno di avere tutto l'accrocchio, il rig, cento cose, luci, lo smartphone se ne occupa da solo e ha un algoritmo tale interno, una processazione interna fatta apposta per darmi un risultato che somigli a quello delle videocamere e fotocamere professionali pur non essendolo. Quindi è ovvio che c'è dell'elaborazione dietro, è ovvio che le foto non sono più naturali, è ovvio che non stiamo più vedendo la scena com'è veramente, stiamo vedendo una lavorazione della scena già in camera, quindi la fotografia che esce da uno smartphone non è realistica, non è veritiera, è processata, è stra-processata. Però il risultato qual è? Che mi tira fuori un prodotto finale innanzitutto che è già finito, quindi non devo più lavorarlo, e poi che è molto simile, che ammicca a quello finito che io avrei avuto con una strumentazione professionale se l'avessi lavorato bene. Quindi questa è una cosa da valutare, perché laddove il telefonino comunque comporta una spesa minore rispetto alla strumentazione professionale, mi dà però un file d'uscita che è già lavorato in maniera tale da somigliare a quello che avrei avuto se mi fossi fatto lo sbatti di portarmi dietro tutto l'accrocchio e lavorare bene, diciamo, e lavorare in maniera tradizionale. Il telefonino mi dà già un qualcosa che si avvicina molto al prodotto finito. Quindi la qualità inferiore sì, ma di poco, e soprattutto noi viviamo ormai in un ecosistema virtuale, quello dei social, in cui questa differenza non è tanto percettibile. Quindi differenza di qualità c'è, ma nel momento in cui noi non siamo più in grado di percepirla, c'è ancora? Se un albero cade nel bosco dove nessuno può sentirlo, fa davvero rumore? Quarto mito da sfatare, la fotocamera dello smartphone è molto limitata. Allora, se questo poteva essere vero una volta, perché una volta avevamo una singola camera, che probabilmente era un 35 mm equivalente, non era un granché di camera, e soprattutto farsi delle foto con un 35 mm tenendolo in mano, cioè distorsione, angoli brutti, non era il massimo della vita. Però ultimamente, siccome ci si è resi conto anche lato produttori, che la fotografia è sempre più importante nelle vite delle persone, proprio nella vita di tutti i giorni, la stragrande maggioranza dei cellulari oggi ha almeno due camere. Ci sono quelli che ne hanno tre, ci sono quelli che ne hanno 4, credo che ormai ci sia testi sulle 3-4 camere per cellulare, quindi è una cosa che non è più vera, nel senso che adesso noi possiamo avere, faccio riferimento all'iPhone 14 Pro, che è appena uscito, ma che detta un po' le regole per tutti quanti gli altri, perché chi non vuole rimanere indietro deve adeguarsi al top di gamma, che è chiaramente iPhone. Ora, iPhone ha un grandangolo che credo rimarrà da 13 mm, quindi è un grandangolo molto ampio, è un grandangolo veramente esagerato, perché il grandangolo classico è 24 mm, il grande classico dei grandangoli è 24 mm, se vogliamo un grandangolo spinto abbiamo il 16, io lavoro molto spesso col 16 mm e mi basta per fare tutto, 13 mm è veramente estremo, anzi vi dico una cosa, 13 mm è troppo, a livello professionale secondo me, almeno per quello che faccio io per la mia esperienza, 13 mm è troppo. Io ho avuto la possibilità di provare il grandangolo di Canon 11-24, una lente strepitosa, mi è piaciuta tantissimo, stracostosa, quindi non l'ho acquistato all'epoca e col senno di poi mi è andata bene, perché poi c'è stato il cambio di sistema, si è passati dalla monta F alla monta RF, quindi è un sistema ormai che va in obsolescenza, quindi diciamo per fortuna non l'ho comprato, perché poi mi sarei ritrovato con una lente molto costosa che poi sui sistemi nuovi non performava altrettanto bene. L'ho provata e vi dico, 11 mm è troppo, quindi 11-13 mm è veramente troppo, cioè mi dà una visione così ampia che è completamente irrealistica, cioè è così ampia da essere strana, è veramente troppo strano osservare il mondo a 11 mm, a 13 mm, è veramente troppo, cioè è come guardare il mondo attraverso una GoPro. Ora, io so benissimo che l'angolo di campo degli occhi dell'essere umano è molto molto ampio, cioè io se metto, se allargo le braccia ancora ho la percezione delle mie mani, quindi il mio occhio un pochino coglie fin lì, quindi non è vero secondo me che la nostra visione corrisponde al 50 mm che vede solamente davanti, noi vediamo anche ai lati, non bene, non definito, ma abbiamo la percezione anche ai lati. Quindi è vero che la nostra visione somiglia a una visione grandangolare, somiglia a una visione da GoPro, passatemi il termine, però è vero anche che la GoPro distorce i lineamenti, distorce le geometrie, distorce le linee. Ora, anche se abbiamo a che fare con una lente priva di distorsione o quasi priva di distorsione, comunque abbiamo un po' di distorsione a barilotto, ma non eccessiva, è vero anche che un fotogramma, un singolo fotogramma, quindi una foto in due dimensioni, noi vediamo in tre dimensioni, ma la foto è in 2D, una foto in due dimensioni con quell'ampiezza tutta perfettamente a fuoco e vi dico che secondo me è veramente troppo. È una lente gradevole da usare, però è un effetto strano, per cui il concetto qual è? È una bella lente, può essere bello averla, io l'11 mm lo userei di rado, andrei a usare il 15, il 16, quindi non andrei tanto sotto, perché sennò diventa veramente irrealistico, quindi 13 mm di grand angolo è tantissimo. E poi abbiamo le lenti classiche, quindi abbiamo la classica lente da selfie e poi abbiamo dei teleobiettivi, quindi gli ultimi ritrovati di iPhone ti danno la possibilità di selezionare l'obiettivo e quindi a cascata anche tutti i vari competitor hanno fatto la stessa cosa, ti danno più camere, c'è la modalità ritratto con cui si può sfocare lo sfondo, quindi non è più così vero che lo smartphone non sia versatile, perché ormai con una serie di obiettivi dentro, io vi dico quando ho cominciato io avevo un obiettivo, avevo un obiettivo che era il 18-135, un obiettivo neanche particolarmente bello, con quell'obiettivo riuscivo a fare un po' di paesaggio, ma non avevo 13 mm, ne avevo 27, quindi già l'iPhone è più versatile della mia prima lente, poi avevo uno zoom da 135, sì quello era abbastanza spinto, però non è che me la sento di dire che l'iPhone non ha lo zoom, capite che ormai gli smartphone ce l'hanno quella versatilità, non solo, ma vi dico di più, l'iPhone ha anche la modalità macro, quindi ho visto delle cose da fuori di testa, ormai puoi fotografare le formiche con l'iPhone, altra cosa che con strumentazione professionale è difficilissimo da fare, perché bisogna avere la camera, il cavalletto, dei flash per illuminare la scena perché sennò è troppo buia, con l'iPhone a mano lo fai e viene pure bene, cioè viene meglio che con la mia lente macro o quella microscopica, ed è più facile da fare e riesci a fare delle scene che con la strumentazione professionale non riusciresti a fare perché non riusciresti a infilarti dentro, mentre l'iPhone è piccolo e ci passa, quindi versatilità c'è sullo smartphone ormai, non è più vero che lo smartphone non riesce a essere versatile perché ormai si fa tutto con questi piccoli affarini. Quinto e ultimo mito che andiamo a sfatare sulla fotografia e videografia professionale col cellulare, con lo smartphone, quello della batteria. La batteria non dura abbastanza, la batteria di qualunque telefono non garantisce una durata tale per eseguire dei lavori in ambito professionale. Allora su questo io posso anche essere d'accordo, nel senso che è vero, se io sto scattando con una fotocamera professionale so che la vita della batteria è di tot e so che mi consente di portare a termine il lavoro che ho iniziato con lo smartphone, non sono altrettanto sicuro. Però dobbiamo anche tenere in considerazione due cose. La prima è che se stiamo puramente scattando con l'iPhone o facendo una diretta con l'iPhone, cosa che con una reflex o con una mirrorless facciamo molta più fatica a fare. Se stiamo facendo una diretta sui social con l'iPhone possiamo attaccarlo alla corrente magari e quindi bypassiamo la durata della batteria. In secondo luogo non possiamo più nasconderci dietro un dito. Esistono dei device come questo, questo è un battery pack, questo funziona a contatto, quindi nel momento in cui io appoggio questo device al mio cellulare lui va in ricarica. Quindi è sufficiente tenerlo a contatto, ovviamente dobbiamo avere un cellulare che abbia la possibilità della ricarica senza fili, però se ce l'abbiamo che abbiamo un telefono di ultima generazione, con un battery pack con la ricarica senza fili noi possiamo semplicemente tenendoli attaccati possiamo avere il telefono che continua a lavorare ma contemporaneamente è in ricarica. E questo ci duplica, triplica, quadruplica la durata della batteria, perché comunque battery pack normalmente garantisce una, due, tre, quattro magari ricariche e quindi se noi attacchiamo un battery pack al nostro telefono mentre lavoriamo possiamo continuare a lavorare col nostro telefono a lungo, molto a lungo. Un problema che potremmo avere è quello del surriscaldamento del monitor, quindi ovviamente il monitor si surriscalda e anche sui telefoni di fascia più alta a un certo momento se teniamo la luminosità al massimo e siamo sotto il sole a un certo momento va in blocco. Sì ragazzi, ma io vi posso dire che questo problema ce l'abbiamo anche sulle reflex di fascia alta e sulle mirrorless di fascia alta. Infatti ho appena sperimentato di recente un surriscaldamento su Canon EOS R, quindi su una fotocamera mirrorless appena uscita di qualità eccezionale che è quella con cui sto registrando in questo momento. Stavo facendo un video e mi sono dilungato un po', per cui il video ha sforato i 30 minuti, era 35 forse anche 39 minuti e mi è comparso il simbolino del surriscaldamento, quindi avevo terminato per fortuna, quindi ho spento la ripresa, però sui 40 minuti di registrazione continua anche una fotocamera professionale come questa va in surriscaldamento, quindi non è che il cellulare, lo smartphone abbia uno svantaggio, perché anche la strumentazione professionale va in blocco. Nel caso specifico R7 non è andata in blocco, mi è solo comparso il warning, guarda che sto per andare in blocco, guarda che mi sto scaldando troppo. Succede, quindi non è un problema solo dello smartphone. Con questa carrellata ovviamente io non volevo invogliarvi a buttare via tutta la vostra strumentazione e dedicarvi solamente ai telefonini, ma volevo semplicemente fare un po' di giustizia, perché non è più vero che col cellulare non si può lavorare, non è più vero che bisogna spendere mille mila euro per avere una strumentazione dedicata al passo con i tempi. Ovviamente se ce l'abbiamo è meglio e io vi invito a ingrandire e guardare in risoluzione piena il video che state guardando e a guardare la grana. Vi assicuro che è più bella di quella di uno smartphone, ma questa è una strumentazione dedicata professionale. Se non avete i soldi, il budget, il tempo, la voglia di implementare tutta questa tecnologia, potete lavorare tranquillamente con lo smartphone, perché in fin dei conti non è tanto la qualità o il gesto tecnico quello che conta, quanto la voglia che abbiamo di metterci in gioco la nostra bravura, il nostro talento nel raccontare una storia. Quindi in fin dei conti il mezzo è solamente quello che è un mezzo per raccontare la nostra storia. Che sia più o meno bello importa poco, perché poi sarà premiato il contenuto e se il nostro contenuto è valido e viene premiato avremo poi le risorse per migliorare la nostra strumentazione. Quindi l'importante è, secondo me, lavorare sui contenuti prima che sul gesto tecnico o sulla strumentazione tecnica. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se scattate con fotocamera o con cellulare o se con tutte e due, fatemi sapere come vi trovate meglio. Parliamo nei commenti e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.